partiti in vantaggio si porta credito in imposta nei confronti di Graziosa quindi Don Ramiro ancora Lord Lampo Chief Stormigal quindi Bronco Nilo Blu e Kingo Ma Cavalli ora prossimi all'imbocco della curva con credito d'imposta che conduce con decisione nei confronti di Graziosa quindi segue Don Ramiro a Lord Lampo per linee interne siamo prossimi ora all'ingresso in retta d'arrivo con credito d'imposta in chiaro vantaggio nei confronti di Graziosa a largo risale Chief Stormigal che precede ora Lord Lampo per linee interne poi ancora Don Ramiro quindi Nilo Blu siamo a 500 dal palo con credito d'imposta che a largo figura in leggero vantaggio nei confronti di Graziosa all'interno poi Lord Lampo Chief Stormigal ancora King Soma nel tratto conclusivo è Graziosa che attacca a fondo credito d'imposta con all'interno Lord Lampo che scatta nel finale Lord Lampo su Graziosa credito d'imposta